Grazie Presidente, il Movimento 5 Stelle voterà contrario a questo emendamento perché noi riteniamo invece che la possibilità di indire referendum in modo più semplificato invece vada proprio a garantire maggiore partecipazione della cittadinanza. Ma voglio anche far capire un attimo all'opposizione qual è il parametro per cui noi abbiamo proposto la riduzione dai due terzi alla maggioranza del Consiglio Comunale, in questo caso dell'Assemblea Capitolina. E la motivazione si trova nell'articolo 138 della Costituzione, Presidente. Vede questo principio per cui le leggi stesse di revisione costituzionale possono essere sottoposte a referendum popolare quando ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera. Quindi addirittura per le leggi costituzionali il Parlamento stesso tranquillamente nella Costituzione c'è scritto che i nostri parlamentari possono un quinto dei membri della Camera indire il referendum sulla Costituzione. Un quinto, non la maggioranza, quindi noi addirittura abbiamo inserito in questo caso un quorum di indizione molto elevato che però insomma era comunque assolutamente necessario e pertanto la nostra proposta pare essere assolutamente in linea con il dettato costituzionale e quindi voteremo in modo contrario alla proposta di Fratelli d'Italia. Grazie.